Ciao amici di GonzoTennis, bentornati, oggi giorno di vigilia, quindi con me oltre a Federico Ferrero abbiamo Fabio Colangelo, ciao Congi Ciao ragazzi, ciao Bentornati Grazie, grazie a voi per l'invito, come sempre Ormai ci vediamo più tra noi due che con le nostre moglie Con le nostre moglie, esatto È vero, perché voi siete ostaggio di... Fabio, se non ci sia un problema oppure no, ma ne parliamo magari in un'altra sede Siete ostaggio di Eurosport, però ancora per poco, perché siamo gli sgoccioli, ecco, manca una giornata Oggi avete commentato, purtroppo, cioè no, purtroppo, per fortuna avete commentato voi, purtroppo l'esito della partita Lava Soria e Bolelli hanno perso la finale contro Bopanna e Debden Partita tirata, come quasi tutti i doppi Hanno vinto 7-6, 7-5 La coppia australiana-india Come si dice? Assolutamente Non mi sono posto il problema, dicevo, te sei serie numero 2 E via Volete parlare un po' della finale? Indo-Australia Indo-Australia Sì, vai, parla della finale Parlo della finale È stata una bella partita Giocata, secondo me, piuttosto bene Qualità alta, livello alto da parte di tutti e quattro Hanno vinto i favoriti Hanno vinto quelli più abituati a giocare quelle partite Si è girata su pochi punti Nonostante il tie-break sia stato perso dei nostri 7-0 Però hanno avuto, in precedenza, la palla per andare avanti un break Quindi comunque la chance di vincere il primo set l'hanno realmente avuta E anche nel secondo si sono seguiti i servizi Pochissime chance per entrambe le coppie in risposta Poi un game un po' disastroso, possiamo anche dirlo, di Andrea Vassori Che è calato parecchio negli ultimi minuti di partita Anche nel game precedente in risposta, in quello a servizio, è calato E appena avuto un minimo calo, Andrea Break a zero Gli altri due si sono dimostrati perfetti E non hanno sbagliato nulla E si sono portati a casa E anche attenti Attenti soprattutto Ottimi, sono stati ottimi Senti, Congi, ti faccio una domanda un po' da profano Perché io e il doppio non sono ferratissimo Però ho la sensazione che siano sempre partite abbastanza vicine Anche quando giocano quelli top top, diciamo Ma è così oppure effettivamente un margine c'è? Allora, sicuramente Oggi erano favoriti Hebden e Bopanna Però a parità di rapporti di forza con un singolare Quanto sono più vicini i margini? Allora, è chiaro che il doppio Con il discorso del giocare in due Quando servi Se il servizio è buono È più che buono È un discreto servizio Ecco, non andiamo neanche sul buono Aiuta perché hai un compagno a rete Che se è sveglio Ti dà una grande mano E quindi fare break È più complicato Quindi è chiaro che magari si vedono Punteggi più lottati Più super tiebreak Poi a livello ATP ancora di più Perché col punto secco Diventa proprio Non un terro all'otto Perché sarebbe riduttivo Però aumenta l'equilibrio E c'è anche il super tiebreak Al posto del terzo serie Esatto Quindi a livello ATP Fa ancora meno testo A livello slam Che invece hanno tenuto Giustamente Come avviso Il punteggio tradizionale Si può vedere un pochino di più Questa cosa In effetti sì Se guardiamo anche le Quando Federico A inizio telecronaca Ha elencato le partite Che hanno giocato Entrambe le coppie Durante questo torneo Sono state le gran lotte A parte un paio di partite Una di Bopan Edwin Finita 6264 E l'altra finita 6262 Per Bolle Vava Tutte delle gran lotte Due volte per ciascuno 7-6 al terzo Quindi è chiaro che Questo fatto Per le coppie di alto livello Quindi dai per scontato Che appunto a rete Non ci sia Un addormentato È sicuramente un aiuto Che il punteggio Sia più equilibrato Magari rispetto a A un singolare Sa quanto quest'anno Fede si è fatto Quasi il record Di match al quinto Anche in singolare Sì 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 È vero Mi ricordo Allora Mi sembra Dopo i primi turni La percentuale Era tipo 1 su 3 Era record Forse 20 su 64 Una roba del genere Che è tantissimo Senti Fede Ho un'ultima domanda Scomoda per te Sul doppio E poi passiamo Nessuna è già l'ultima Ah ok Ultima sul doppio Ok Chiaro Allora Bavassori e Bolelli Hanno fatto finale slam Quindi Sia una Una bella Andare a parare Gioia Me l'ha già fatta In telecronaca Il Bob Vai Vai Io l'ho ascoltata Colmuto Ma non Perché Ascoltata colmuto È bellissima C'è oggi Mangiato digiunando Allora Siamo in Davis Sì E giochiamo Un doppio decisivo Teniamo Bavassori e Bolelli Che hanno dimostrato Di fare una finale slam Quindi Sono una coppia forte Oppure Teniamo Sinner E X Uno che vuole Sinner Che non è stato Come Zero Calcare Un bel programma Che c'è su Iplay Si chiama La conferenza stampa Invitano dei personaggi Famosi davanti a liceali Che fanno domande Un po' del cazzo Tipo la tua E al certo punto Zero Calcare Fa Ma che cazzo Mi verrebbe La rispondete così No In realtà Ti rispondo Un po' Da paraguru Cioè Lui Ha risposto Alla stessa domanda Fatta da Mente Telecronaca Dicendo Avere scelta È bello Io invece Direi Preferirei Non dover Avere scelta Fossi io Un capitano Cioè Se io mi trovassi In situazione simile Non saprei Veramente Che cavolo fare Perché Come fai sbagli Se ti gira male Perché ovviamente Se fai una scelta E poi ti gira male Ti dicono Ecco Avresti dovuto Usare gli specialisti Oppure no Sinner Come fai a levarlo Anche dal doppio Dal triplo Dal quadruplo Quindi Il problema è È vero O non è vero Che in questo momento Vale il vecchio detto Di Peter West Il commentatore Della BBC Che disse Il miglior doppio Del mondo È Mekero Con chiunque Cioè È vero Che in questo momento Il miglior doppio italiano È Sinner Con chiunque Se è vero Tieni Sinner Con Sonego O con chiunque Se non è vero Ti puoi anche Prendere la coppia Di specialisti Però Mekero Era un grande Doppista Sinner No Sinner È uno che vince I doppi Più che altro È uno Che vince Le partite Secondo me Quindi Se tu scegli Loro È un po' Che secondo me Volandri Sceglierebbe Sinner E Nel caso di Malaga Sonego È un po' Contrandare la specialità No? Che poi a me La specialità Piace un sacco Quindi Dovesse scegliere Il gusto personale La coppia Di doppisti Avendocela Di livello Come questa Che fa Finale Slime La prenderei sempre Ok Avevi alzato la mano Come a scuola Tutto vero Diciamo che Il fatto dell'abbondanza Io lo reputavo Lo reputo Un vantaggio Perché se hai Un Sinner Che poi ti gioca Un singolare In tre ore passa Devastato Morto E magari Lui non si tirerà mai indietro Però lo vedi Sul punto decisivo E però se hai Allora se la scelta è Sinner al 100% Più uno Probabilmente Verrà scelto Sinner Il famoso Mechero più uno Sinner più uno Ma se Sinner Al 60% Fisicamente Perché ha giocato Un match lunghissimo Perché magari I giorni precedenti Ha fatto fatica Perché non è al 100% Fisicamente E hai il doppio Finalista Slime Al 100% No a quel punto lì Però si gioca Due su tre Forse tre su cinque Ok Due su tre No no È chiaro Mi sfugge qualcuno Ma la Serbia aveva Oltre a Zimunic Aveva un altro specialista Ai tempi DC O per questa partita No 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 Ai tempi Ormai ha smesso Zimunic Non c'era La vita Io mi ricordo Mi hai fatto una bella domanda Io mi ricordo Perché lui giocava con Nesto Nel circuito Esatto Sì Con Nesto Canadese Esatto Sì Ok No perché Immaginavo che l'Italia Magari può andare Verso la dimensione Della Serbia Con Djokovic C'è l'Italia con Sinner E decide lui Vabbè Lasciamo perdere Allora la finale femminile È andata Fede come avevamo detto Nei giorni scorsi Insomma Non era difficile Pronosticarlo Ha vinto ancora Sabalenka 6362 Non c'è quasi stata storia Insomma Troppo Troppo potente No no Tu parla pure Abbasso io Ok Era troppo potente Insomma E Poi Avendo già vinto Lo scorso anno Se è un po' Se è un po' Sbloccata Vi chiedo Un commento Un qualcosa Partita proprio liscia Liscia Troppo Gasata Troppo liscia Io speravo Ci fosse un po' Un po' Di bagarre Ti piace Jenga? Sì A me sì Anche a me È un po' diversa Dalla giocatrice Fatta con lo stampino Quindi sì Non mi piace tantissimo Come porta i colpi A me quel servizio Non piace Però Se funziona Avevo sentito Che avevi provato A chiederlo A Vinci Però non ti aveva Ben inteso Forse in telecronica Tra estetica Ed efficacia Del servizio Sì perché a me Sembra che perda qualcosa In spinta Con quella Con quell'apertura Così anticipata In fuori Così Così sbracata Però qui abbiamo Il tecnico Sì Quello è un errore Che solitamente Si cerca di correggere Quello che commette Jeng Poi ci sono i casi In cui appunto Non conoscendo la storia L'evoluzione tecnica Della giocatrice Nel caso Facciamo fatica a dire Potrebbe correggerlo Magari a correggerlo Ci ha provato E le correzioni Non le hanno dato Dei vantaggi reali E quindi a quel punto lì Allora vai sul movimento Che tu giocatore Tu giocatrice Senti più sicuro Quindi Però è un errore Poi anche il fatto Che fermi così tanto Il movimento Ci deve essere Una piccolissima Frazione di secondo In cui Sembra quasi Che rimanga ferma La racchetta Però poi La spinta deve essere Cioè il movimento Deve essere continuo Se no Fermi la spinta E o hai la forza Di Serena Williams O se no Non va bene Però Ripeto Magari anche Una mobilità ridotta Dell'articolazione Esatto Ma Tutti riescono A fare la rotazione Bravo Certo Vedi Capisci di te E E' attento Perché E' attento Molto attento E perché comunque Alcuni errori tecnici Derivano appunto Da difficoltà Fisiche C'è poca mobilità Magari nell'arto Poca mobilità Delle anche O quant'altro E quindi tu vedi Un errore tecnici Ma come fa Quello a non correggerlo Eh ma Non può Non ce la fa Il meglio che può fare E' quello Quindi Questo è A me preoccupa di più Il cambiamento Effettuato da Sfiontec Al servizio Che prima serviva Bene Ha fatto questo cambiamento Ha detto lei apertamente Per cercare di servire Meglio Io in questo Strano Open L'ho vista servire Peggio Poi è vero Che è stato appena fatto Bisogna darle tempo E non sono tutti i sinner Che modificano Vistosamente il servizio Iniziano subito A trarne vantaggi Però Sono molto curioso Di vedere l'evoluzione Il servizio di Sfionte Perché lì c'era un movimento Di un certo tipo E lei è passata A fare un'altra cosa Che a mio avviso Al momento La sta solo rallentando Del bonus Del bonus Il servizio di Del bonus Che tra l'altro Mi ricordo Allo Stagnan Open Perché qualche anno fa È stato Del bonus A servire Su Nadal Che ha tirato la pallata In testa Alla ragazzina Ricordi Sì è vero Allora Veniamo Infine Al piatto forte Che è Quello che vedremo domani La finale Del singolare Con Sin Nel protagonista Allora Fede Io ho visto le vuote Sì Dei bookmaker Che sono un po' Il termometro Di Di quello che si pensa Sinner è pagato 1,40 Che tradotto In termini Di probabilità Assegnano I bookmaker Assegnano a Sinner Più del 70% Sei d'accordo? Un po' tanto Cioè Io sono d'accordo Che Sinner è il favorito Della finale Per come è arrivato Perché ha vinto L'ultime tre Però Cazzo 70% È tanto Sì è tanto Devo dire che Che non sono sicuro Di Sapere quanto ha Da portare in finale Di nascosto Medvedev Perché dopo il primo Sette e mezzo Con Zverev No 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 Ma Ma comprensibilmente Era Stragliato E invece Ne aveva ancora A questo A questo aggiungo Lo storico E tu mi dirai Sì ma Le ultime tre Le ha vinte Sinner Sì le ultime tre Le ha vinte Sinner Però Le prime sei Le ha vinte Medvedev Non è che adesso Non le abbia più vinte Cioè Non è che quando Inverti la tendenza Poi fanno tutti L'Hendel Connos Che le prime sette Le vince uno E 18 delle successive Venti Le vince L'Hendel Almeno Non credo Che andrà così Potrebbe essere Ma mi sembra improbabile E si porta dietro Anche l'esperienza Di quel tipo di match Francamente Dopo averlo visto Contro Djokovic Sinner Mi ha anche un po' Levato dubbi Sulle prime volte Cioè tu vai A battere Per la prima volta Un giocatore Imbattuto in semifinale Un torneo dello slam Con una fiducia Con una tranquillità Con una coscienza Del consapevolezza Del proprio tennis Cioè Non è mai nato in panico Perdi il time Con match point Cosa ti aspetti Che all'inizio del quarto Tu sei Sinner Là c'è Djokovic Si è appena salvato E comincia A rincorrere A farsi vedere Negli specchietti Non è capitato E quindi Quindi Sul numero Sul 70 Più o meno 70 Non lo so Perché Non faccio fatica A tradurre In cifra La sensazione Però Per me decisamente Favorito Sinner Non lo so Congi Sì 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 Anche secondo me Congi volevo chiedere Scusami Volevo chiederti Il fatto Che Sinner ha giocato Mi sembra Sei ore Addirittura in meno È stato in campo Sei ore in meno Rispetto a Medvedev In Australia Medvedev ha giocato 3 quinti set Due volte Addirittura Rimontato Da 2 a 0 sotto Quanto Può essere Un fattore È un fattore Sarà un fattore Prima della partita Con Djokovic Avevo detto Forse Forse Mi sarebbe servito Lottare almeno Una partita Cosa che Non è successa Quindi Tu ne parli In termini inversi Cioè io Ti chiedevo Se era un fattore In favore di Sinner Il fatto Di aver giocato Sì no no Aspetta Sto dicendo Quello che dici tu Lo è Perché per fortuna Tra virgolette È arrivata La lotta Poi con Djokovic Nel senso Mi spiego 3 set Vabbè A parte i primi tre turni Che erano abbastanza scontati 3 set con Cacciano 3 set con Rublio Se avesse vinto 6-1 6-2 7-6 Con Djokovic La mia paura Poteva essere Ha giocato è vero 7 ore in meno Perché se avesse Vinto al Tiber Sarebbero state 7 ore in meno Però non si è mai trovato Nella lotta Non si è mai trovato A dover lottare Quindi magari gli capita In finale Prima finale della sua vita Contro uno come Medvedere Che sappiamo che uno Che ti Dal punto di vista psicologico Ti fa diventare matto Poteva essere un fattore Il fatto di aver perso Quel set con Djokovic Potrebbe alla lunga Rivelarsi un Un vantaggio Perché comunque Ha avuto dei momenti Difficoltà Perché Sei a un punto da battere Djokovic Tutto quello che ha detto Federico Poi perdi il set E il quarto Lo giochi in quel modo Ti trovi di fronte Un grosso problema Lo affronti E lo risolvi Molto molto bene Addirittura ha buttato via Una bottiglietta Una borraccia Mamma mia Un gesto di rabbia Estremo E Fede Tu che ne pensi? Allora Io ricordo Che tempo fa In una puntata Avevo detto Che secondo me La loro rivalità Tra Sinner e Medvedev Era una rivalità Per cui Fino a un certo punto Sinner non la beccava mai Sbloccato quel momento Medvedev non la beccava mai Cioè Li vedo molto netti Come Come valori Non so Quanto può incidere Allora Se devo fare un discorso Di quello che ho visto finora Sinner è Nettamente L'MVP Della Della regular season Diciamo Della stagione Regolare Fino alla finale Però Quello che conta È l'MVP Delle finals Quindi secondo me L'unico fattore Che Che può far perdere Sinner È il fatto che sia Una finale slam Comunque Medvedev È un giocatore esperto Ha giocato Queste partite Però non è come Djokovic Che ne ha giocato In una valanga Sarà la sesta Per lui Delle cinque giocate Ne ha vinte Soltanto una Non è un ostacolo Insormontabile L'esperienza In finale slam Non so come Come Sinner Reagirà Però Come dicevi tu prima Ha dimostrato Di essere Di non essere normale No È speciale Decisamente Ma infatti Certo Giocare la prima finale Da favorito Non so quante volte È successo È quello infatti Fede Secondo me Più che il discorso Averne già giocate Il fatto che Uno Che Sinner La gioca da favorito Mentre con Djokovic Non era per niente Favorito E Medvedev invece La potrà giocare Libero Tranquillo L'ho anche detto Nell'intervista Post partita Quando ero sotto 2-7-0 Ho pensato che Dovevo essere orgoglioso Di me stesso Orgoglioso di quello Che ho fatto Quindi Ancora di più in finale Visti i precedenti Visto come ci arrivano Visto tutto quanto Giocherà molto libero Medvedev Questo è A mio avviso Il pericolo Il pericolo più grande Sì Però Pensando a come gioca Tennis Medvedev Anche se Facciamo l'ipotesi Che dovesse Vincerla Non vince 3-7-0 Facile Quindi è una partita lunga Scambi lunghi E per cui In un certo punto Ste gambe Gli chiedevano Ponto No Ma io la penso Esattamente come te Tra le due variabili Quello che volevo dire Era che Più che l'esperienza Di averne già giocate Cinque Potrebbe pesare Il fatto che Sinner si trova La prima Da favorito E l'altro invece Può giocare tranquillo Libero E rilassato Questo era quello che intendevo Poi Secondo me Se giocassero Domani Si trovano sul centrale Senza pubblico Senza arbitro E fanno un 3 su 5 Finisce 6-2 6-2 6-2 Si dice Domani ci alleniamo Facciamo un 3 su 5 Finisce 6-2 6-2 6-2 Se giocano solo Tra virgolette Solo a tennis Cioè il problema È che domani Ci sarà pubblico Ci sarà un arbitro Ci saranno milioni di persone In televisione In mondo Esatto E quindi Magari proverà a fare casino Medvedev Casino nel senso Certo Cosa che in allenamento Non farebbe Quindi 6-2 6-2 6-2 Non credo finirà Poi magari Ci vince pure La prima Sla in sé Ma non credo Approfittiamo Fede Di avere uno Che gioca a tennis Molto bene Come Congi Quindi È un esperto Anche da un punto di vista Tecnico Grazie per aver usato Il tempo presente Giocava Ah Vabbè Gioca Gioca ancora Passato prossimo Passato prossimo Giocò Premoto Tatticamente Com'è Com'è la situazione Cioè Deve fare qualcosa Di diverso Sinner Rispetto al solito Deve andare Più a rete Perché Insomma Hanno dimostrato In tanti Djokovic Soprattutto A New York Che andando a rete Lo mette in difficoltà Deve fare questo Oppure no Allora Deve Giocare Lui la chiave Nelle ultime partite L'ha trovata Perché ha dimostrato Di essere riuscito A trovare una soluzione A tutti i problemi Che gli proponeva Medvedev E a vincere Le ultime tre Io credo Che essendo una finale Slam Sinner debba partire Facendo le cose Che lo fanno sentire Più sicuro E più tranquillo Se dovesse vedere Facendo le cose Che lo fanno Che lo fanno stare Più tranquillo Conoscendo ovviamente Le qualità di Medvedev I suoi difetti Quindi credo che Rispetto a ieri Qualche servizio In più Qualche stretto Qualche pallacorta La vedremo già Comunque dall'inizio Però senza esagerare Poi chiaro Che ti accorgi Che facendo così Non va Allora lui sa Benissimo Quello che deve Provare a fare Un po' più spesso Per dar fastidio Medvede Ok Fede In ultimo Ti chiedo Qual è il Pericolo maggiore Secondo te Domani Perché Per quanto abbiamo visto Come diceva pure Fabio E' superiore E' un giocatore Superiore Al momento Sinner Come si può Complicare la partita Che scenario Qual è il peggiore scenario Worst case scenario Mi verrebbe da dire Una cosa Per cui Tocchiamoci Che si Che si faccia male No Sai che faccio Veramente fatica Che Che non gli funzioni La prima E Che Medvedev Riesca A tenere Il palleggio Molto profondo A confonderlo Ma Tante altre cose Francamente Cioè tu lo vedi Bello c'entrava Anche in un'ipotetica Situazione Set Primo set Set lungo Lo vince Medvedev Non lo so Sai che faccio Fatica A immaginarmi Le situazioni Perché poi Ci sono Tante di quelle Variabili Che In questo momento La cosa che ha detto Fabio prima Secondo me Decisiva Cioè Medvedev rappresentava Un problema Perché Sinner Non sapeva Cosa fare Contro un giocatore Che ti sta Sei metri dietro In risposta Poi eventualmente Viene avanti Poi ti cambia il gioco A tre volte Poi lo rallenta Ti incasina Serve forte Serve bene Quindi poi è difficile Fargli il break È così intelligente Da capire le situazioni I momenti Però poi invece Sia tatticamente Sia tecnicamente Perché poi le cose Devi anche saperle fare Lui l'ha trovata Questa risposta E Medvedev lo sa In più appunto Uno sta giocando Su una nuvola All'altro Con la lingua per terra Non lo so Aiutami tu Fabio Qual è il peggior scenario Possibile Salva la sfiga Secondo me Abbiamo detto tutto Il peggior scenario È quello Cioè perché Non dovrebbe giocare La finale Sinner Paralizzato Dalla tensione Sulla base Di quale Indizio Potrebbe Un giocatore Anche fortissimo Potrebbe farlo Però Lui di testa Mi sembra proprio Un Un carro armato Certo Quindi Parlando di lui Anche conto Djokovic Anche quelle di difficoltà Del terzo set E quarto Final break Ha dato l'impressione Di avere paura Di andare Di rischiare il panico Ha giocato molto male Il match point Però Non so Se è paura Anche così male Secondo me Sai Fede Inizio scambio Non l'ha giocato così male Poi quel diritto lì Ci ha pensato Un filino troppo E l'ha tirato in mezzo alla rete Però secondo me Quello non è paura No ma infatti Nel complesso Non l'ha giocato Male Per da dire Si è preso subito Un rischio Perché aveva paura Voleva liberarsi Allo scambio C'è cercato di far subito Il vincere Ha iniziato a scambiare Aveva anche Mosso abbastanza bene La palla Giustamente Aveva giocato con margine Quindi Ma ha giocato bene invece Il match point Nel quarto E tutto Il game Era un match point Non è che era 40-0 Che diceva bene Allora ci sta Quel primo Lascia andare il braccio Cioè comunque Un break E un vantaggio L'ha giocato con una serenità Ma è anche la naturalenza Con cui ha raccontato Le vicende di fine terzo set Si ho avuto match point Però con un gioco Ci sono cose che possono capitare Si ma poi come fai A giocare L'inizio del quarto set così Conte dirlo Ma poi farlo E lui lo ha fatto E per questo Che sinceramente Mi viene complicato Pensare a Poi sai Il tennis è lo sport In cui abbiamo visto di tutto Quindi Secondo me però Determinate cose L'abbiamo pensato Più noi Spettatori Che lui in campo Cioè io Da spettatore ho detto Ecco qua Ha vinto Ha vinto al tie Brex Si è salvato un'altra volta Adesso rinizia La solita La solita partita È andato negli spogliatoi Invece magari lui in campo Ha visto che Insomma Ha detto Ho vinto facile i primi due Ho perso questo set Ma potevo vincerlo Non è successo nulla Ma chi lo sa Invece magari Ti è anche tornato in mente Wimbledon Dell'altra volta Da sotto due set Ha sconfitto al quinto Perché la pausa Di quei minuti È lunga Come fai A non venirti in mente Suppongo che gli sia Venuto in mente Anche perché Se l'hai vista la partita Davanti agli occhi E poi sfuggita Ma quello che è sconvolgente Per conto mio È questa capacità Di lasciarselo alle spalle Quindi Quindi davvero Io fossi Mettveder Non avrei delle buone sensazioni Come ha detto Rubleva Alla fine della Della partita Che ha vinto con Deminor Sembra che io sia nei guai Looks I'm in trouble Penso che lo pensi anche Mettveder Sì Va bene Mi avete convinto Io ho iniziato La puntata Credendo Di Di vedere Sinner favorito Però voi mi avete Messo Vedo infuso ottimismo Ecco Molto più ottimismo Di quello che avevo Bene Quindi siamo d'accordo È il nostro pensiero Un lumicino a Mettveder Lo lascio Perché mi ha stupito Veramente Cioè io sono stupito Di leggere Mettveder Nel nome del secondo finalista Molto Molto stupito La partita con Zvere Ve l'ho commentata È vero che Zvere Se l'è mangiata lui Ma l'altro Era in piedi E Quasi Meglio Dal terzo set in poi Rispetto ai primi due Fisicamente Quindi evidentemente Sto serbatoio Non è così vuoto Come 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 lui dice E come in certi momenti Del torneo Sembrava Sembra effettivamente essere Il tempo per recuperare Ce l'ha avuto Ni Come dice lui Dopo le battaglie Dei primi turni Per esempio Contro G Lui ha detto Io non ho cominciato Al 100% Di serbatoio Ma già all'80 La finale Come la comincerà Secondo me A meno dell'80 Ma torniamo All'iscorso di prima Può Medvedev Fare come Nadal Fece contro di lui In finale Qui due anni fa Cioè Vado sotto di 2-7 La partita si allunga Da dietro Faccio una brutta fine Mi metto ad attaccare Si mette a far serve in volley Medvedev Forse una volta ogni tanto Sì Poi insomma Il torneo Dai Ci induce a pensare Questa roba qua Cioè Uno ha giocato 3-5-7 Ha perso 23 volte il servizio Sinner 2 Insomma Va bene Grazie Grazie Congi Grazie a voi Ciao Ciao Fede Ciao